Lo sport si impara a scuola. E' questo l'obiettivo del progetto che parte domani, 8 novembre, alla secondaria di primo grado Buonarroti di Ponte Amoriano e che vuole promuovere e diffondere la conoscenza e la pratica sportiva come opportunità di crescita personale, socializzazione e integrazione. In questo modo i nostri ragazzi e le ragazze avranno modo di conoscere e praticare vari sport, di avvicinarsi a questi e soprattutto anche di sviluppare e far crescere alcuni atteggiamenti positivi come la responsabilità verso di sé, verso gli altri, la solidarietà, il rispetto delle regole, la disciplina e anche la costanza e lo spirito di sacrificio. I partner sono il Circolo del Tennis di Ponte Amoriano, l'Associazione Sportiva Libertas e l'Associazione Sportiva Alba Chiara e sarà possibile praticare, in orario di educazione fisica o in altre quattro ore opzionali, le discipline del tennis, del basket, della pallavolo e della ginnastica ritmica. Una fusione fondamentale per quanto riguarda la crescita dei nostri ragazzi. Il territorio che abbraccia i nostri ragazzi attraverso le associazioni è fondamentale anche per riconoscere nel territorio delle bontà professionali che si mettono a servizio anche della scuola. Le attività saranno organizzate fino a maggio in due pomeriggi a settimana dalle 15 alle 17.